L'Inter ha vinto la partita contro il Frosinone e ha riconquistato la leadership della Serie A. Ora, tutta l'attenzione è rivolta all'atteso confronto del 26 novembre. Parlando del classico del 26, ancora non si sa chi sarà il titolare dell'attacco della Juventus contro l'Inter. Il dubbio è tra Moise Kinn e Duan Vlaovic. Vlaovic che sembrava insostituibile, ora vede Moise Kinn guadagnare sempre più la fiducia di Allegri. Allegri ha parlato della scelta di Moise Kinn invece di Vlaovic nelle ultime partite. La condizione fisica non è la stessa per tutti durante l'anno, ad esempio ora Kinn è in migliore forma rispetto a Vlaovic. Forse tra 15 giorni, Vlaovic sarà in migliore forma di Kinn. Queste sono state le parole dell'allenatore. Chi merita di essere titolare, Vlaovic o Kinn? Commentate qui sotto e non dimenticatevi di iscrivervi al canale e mettere il vostro like.